Per noi è importante presentare questo che è una passione degli italiani, partendo dal fatto che il motorismo storico è una cultura, la cultura del nostro passato e del passato dell'Italia come costruttrice di veicoli d'epoca, camion, corriere, camper, trattori eccetera. Noi abbiamo voluto rappresentare in questo spaccato dell'Italia di un tempo quello che è stata la cosa più importante, la migliore, e quindi si vedranno auto, moto, storiche piuttosto che trattori, corriere, camper e veicoli militari ma anche barche che sono quelle che sono state le più importanti per il nostro passato ma anche per il futuro di chi da collezionista segue questa passione e segue questa cultura appunto per far vedere a chi non ha mai avuto la possibilità di vederlo in passato i nostri migliori prodotti. Rappresentazione di uno spaccato dell'Italia di un tempo che oggi non c'è più. Utilizza queste parole il presidente di Pordenone Fiere Renato Pugliatti nel presentare il weekend pordenonese che dal 19 al 21 aprile riempirà tutti i nuovi padiglioni della struttura nell'ambito della 58esima edizione della fiera del radioamatore Tech Expo che al suo interno vedrà non solo l'appuntamento dedicato al settore dell'elettronica di consumo e informatica low cost ma anche la seconda edizione di Alto Adriatico Motori d'Epoca che sarà dedicata ai mezzi di trasporto storici con auto e moto assolute protagoniste e non solo perché ci sarà anche un evento dedicato al collezionismo militare e uno dedicato agli amanti della fotografia. Quattro manifestazioni in contemporanea con un solo biglietto d'ingresso e nel dettaglio a spiegarci questo weekend è stato Francesco Terrin coordinatore commerciale marketing di Pordenone Fiere. La prima, Motori d'Epoca, che il titolo già dice cosa troverà, quindi sono auto, moto, barche, mezzi e motore dedicati al passato quindi auto che hanno fatto la storia della storia automobilistica italiana e non solo. Passiamo poi al cuore della manifestazione che è lo storico, che è la fiera nazionale del radioamatore che secondo me abbiamo richiamato Tech Expo perché ovviamente all'interno ha anche tutta un'elettronica di consumo attuale e che è il cuore della manifestazione anche con i radiantisti, Linux Arena, l'aerospazio dedicato all'Apple e quindi a tutto il mondo di quella grande famiglia. Per poi arrivare, per chiudere la carata di padiglione, arrivare a Nord-Est Collezione che è un evento dedicato al collezionismo in senso generale ma soprattutto al collezionismo militare. Chiudiamo con un fotomarcato che invece è dedicato a chi ama la fotografia dove troveranno sia macchine d'epoca ma macchine anche attuali, quindi digitale. Quindi diciamo un biglietto unico, adesso si può acquistare anche online a un prezzo molto ridotto.